Il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta e l'assessore al turismo Teresa Esposito hanno firmato nella giornata di ieri, mercoledì a Napoli, un accordo con Luigi Raia, direttore generale dell'Agenzia regionale per il turismo per la gestione congiunta dell'ufficio turistico La Perla del Cilento. Raia aveva fatto visita all'info point ubicato in zona porto a Marina di Camerota già qualche giorno fa, prima dell'incontro che si è tenuto all'Happy Village e che ha visto la presenza dell'assessore regionale al turismo Casucci e di altri esponenti del consiglio regionale della Campania. Camerota terza località in Campania per numero di presenze legate al turismo dopo Napoli e Sorrento. Rientra, si legge nella convenzione, tra i centri più noti e uno dei siti turistici di maggiore rilevanza del territorio regionale, situato in posizione strategica anche in relazione alle altre località di interesse naturalistico, storico e artistico della Campania. L'Agenzia regionale per il turismo della Campania garantisce al Comune di Camerota corsi di formazione per il personale impegnato presso l'ufficio della Perla del Cilento, mediante attività di affiancamento e tutoraggio Covid permettendo naturalmente. Inoltre l'Agenzia fornirà materiale promozionale, il pieno supporto organizzativo e logistico e la promozione di attività ed eventi presso altri info point regionali. E ancora l'Agenzia diretta da Luigi Raia realizzerà azioni di marketing territoriale e turistico attraverso progetti sinergici e definizione di itinerari integrati. La postazione turistica della regione Campania all'interno dell'ufficio turistico sul porto di Marina di Camerota è un segnale importante di sinergia tra Comune e Regione che darà al nostro territorio delle opportunità di grande valore promozionale e di visibilità senza precedenti, dice l'assessore Teresa Esposito. Un ringraziamento particolare al direttore dell'Agenzia regionale del turismo Luigi Raia. Con questo nuovo importante step Camerota si appresta a vivere una meravigliosa estate ricca di soddisfazioni per tutto il comparto.